Un incidente appena avvenuto in una strada secondaria di un'isolata periferia. Due scooter di grossa cilindrata subito dopo l'impatto, il primo ribaltato, il secondo irriconoscibile, un disastro di lamiere ancora fumanti. A terra a pochi metri due uomini sulla quarantina. E' questa la trama dello spettacolo Qui e Ora di Mattia Torre che sarà in scena all'Ambra Giovinelli dal prossimo 14 febbraio. Costretti a interagire si rivelano due persone completamente diverse, un uomo che si sente straordinario e un altro che invece potrebbe essere accusato di ordinarietà. Questi due mondi vanno in collisione, raccontano un paese senza concordia, un paese che non ha un vero senso della cittadinanza. Per cui se fai un incidente con qualcuno, quasi per definizione questo qualcuno è già un tuo nemico. E quindi in questo senso così di mancata coesione sociale, culturale, confliggono questi due personaggi. I due protagonisti dello spettacolo sono Valerio Mastandrea e Valerio Aprea. Indossano i panni dei due uomini che dopo l'incidente avrebbero bisogno di cure, ma i soccorsi non arriveranno prima di un'ora e mezza. Il mio personaggio è uno che crede di muovere i fili del mondo o comunque del suo mondo, di quello a cui si rivolge, di quello che vive quotidianamente. Quindi è uno che pensa di essere motore di qualcosa e ha un'idea e una forma di giudizio spietato invece sul suo personaggio che non dà nessun riferimento per poter essere giudicato così. Però ecco, il mio personaggio è talmente presuntuoso nella sua megalomania che invece è convinto di sapere chi è. Qual è invece l'aspetto che più ti piace del personaggio che interpreti? C'è un aspetto. Stato di cose, lo status quo, insomma contro tutto ciò che lo circonda e lo rende impotente. Nello scontro tra i due protagonisti si esprime il cinismo e il senso di lotta dell'Italia di oggi dove la cattiva amministrazione finisce per generare sfiducia non solo dei cittadini verso le istituzioni, ma anche tra cittadini e cittadini in un clima sempre più tese e violento che trova il suo apice nella grande città. Per me il teatro non è che ne faccio poco, ne faccio molto meno di quanto faccio cinema, poi c'è chi ne fa addirittura molto meno di me di teatro. Però mi serve, ogni tanto mi serve, non per scopi commerciali, ma proprio per testare se mi va ancora, se va bene, se continua ad essere un lavoro che mi piace questo qui. Non che il cinema me la tolga la voglia di farlo, però a volte quando fai una buffata di film, magari in due anni racchiusi, ne fai tanti, ne fai troppi, il teatro è il controllo giusto che ti serve di fare.